Il nord del Molise e il basso Abruzzo guardano ad una nuova frontiera in materia di sanità pubblica per andare incontro alle esigenze delle popolazioni di piccoli centri montani arrampicati sulla vallata del fiume Trigno. La classe politica è chiamata a dare aiuto alle aree interne delle due regioni adriatiche. La strada da intraprendere dovrà essere quella della collaborazione, evitando campanismi inopportuni di questi tempi. Favorevoli alla realizzazione di una casa della salute a canneto di Roccavivara, dopo il comitato pro Trignina, l'ex esponente regionale a Palazzo Moffa, Gaspero di Lisa e numerosi sindaci della vallata, un servizio H24 da realizzare con risorse a disposizione delle regioni Molise e Abruzzo per dare risposta in termini di urgenze sanitarie in un territorio carente da questo punto di vista. Una idea condivisa da Luciano D'Alfonso, presidente della giunta regionale abruzzese, mentre stanno chiudendo diversi ospedali minori della provincia di Chieti la casa della salute a canneto andrebbe a gravitare su un territorio molto più vasto, lungo una direttrice importante come la Fondo Valle Trigno, a costi ridotti attraverso un presidio medico di qualità.